Lei ha partecipato al concorso STEM per il ruolo, dopo tanto precariato finalmente il concorso, ce l'ha fatta? Diciamo, ho passato lo scritto, non bisogna vedere l'orale, insomma, come andrà. Io comunque per fortuna non sono precaria perché lavoro da un'altra parte, però penso di essere una delle poche che c'è questa possibilità, insomma, di provare questo concorso come un'altra via lavorativa, insomma. È stato difficile? Sì, sì. Quali sono state le domande che più vi hanno messo in difficoltà? Ma alcune erano molto specifiche, alcune erano molto specifiche, quindi erano cose che avevi studiato, insomma, molto bene in profondità, a memoria, oppure non la zeccavi, insomma, non la centravi la risposta. Alcune erano molto, molto specifiche. Lei da dove viene? Da Roma. È stato difficile per lei organizzarsi? Eh, ho preso il giorno di ferie, insomma, ho dovuto prendere tre giornate di ferie, ecco. Siete stati in tanti assenti su 17, solo 6. Si aspettava di essere così pochi a fare il concorso? Ma forse sì, nel senso che un anno, cioè la domanda è stata fatta un anno fa. Tanta gente magari si è anche scordata di questo concorso. Poi pubblicato due settimane fa, era una cosa che li stavi dietro, o se no te lo scordavi facilmente, potevi scordartelo, insomma, facilmente. In bocca al lupo per l'orario? Eh, crepi il lupo.